Questa scena è la prima scena in due si vede, che sono faccia a faccia, c'è Azogera e poi dopo a noi, Leonardo, che è la moglie di Pietro, e poi dopo Antoni Gazzara, che è la mamma, ma diceremo, è la mamma generica. Tu parli così che si giovana, ma il tempo guarisce, il tempo entra come avrebbe, dissutti a ogni vozza, bruciando l'osso, passa come un entusallito il tempo, sopra la verità verta, e pare che lo guarisce, ma brucia. Quando si sente più né calo né freddo, tanto si guarisce. Io trattano come una cosa, quando ho abito e con Silania, come un cachone, che lo si mette in un scorno. Cui vedi è spesso lusino, ma da una mamma, un'altra fare, una mamma, un simone, che sta ferma dove le deve non stare mamma. Una mamma, una mamma, un amore, è diventa leggera, leggera, come una vrondas secca. Ma un bol amica, è un casca, c'è un nodo qui, c'è da una pesa.